ciao ragazzi oggi vi mostrerò come allenarvi facilmente da casa vostra con la barra smash workout una barra eccezionale perché con una semplice barra potete allenare bici allargando un po' le gande creando più tensione dorsali le spalle ed anche le gambe con un front squat naturalmente una sola resistenza potrebbe sembrare leggera possiamo aggiungere più peso in qualche semplice passaggio molto semplice aggiungendo una banda di resistenza sentiamo molto più movimento ragazzi come vi dicevo possiamo alternare e variare il nostro allenamento e le nostre resistenze con diversi carichi diversi elastici partiamo da 4 kg e mezzo 5 kg con il giallo fino al totale di 115 kg e in altra attiva la barra abbiamo anche le maniglie poi per le gambe possiamo utilizzare la cintura per le capiglie e l'ancoraggio alla porta per avere più varietà del nostro allenamento e direi tutto più portavamo